e benvenuti ragazzi che siamo su un nuovo video di youtuber Siluetos di PewDiePie allora noi ragazzi siamo a 3.388 iscritti, 2 di esperienza e 4 dollari presi, non so manco io come ne ho presi quindi va bene e se riusciamo ad arrivare a quanti iscritti, a livello 8 penso è più limitata a tempo è limitata da un afferone, dopo scriviti in una volta, ah no è limitata, ci sono sempre finché io non arriverò a come si chiama, se no devo compra' da ora forse se no devo compra' da ora devo spendere lo scelto, senza�내사 di saperne... non so allora amici Allora, senza cosa, senza cosa, non sono molto guai. Allora, amici, mi sono regali. Allora, ah, Mattia, per Mattia Wolf, ragazzi. Per Mattia Wolf, il mio nickname è questo, perché proprio io me lo potevo mettere, perché non me lo potevo mettere, perché gli aveva, che era già in esenzia per qua. Ah, giusto. Oh, minchia, finalmente gli iscritti, non è da qua. Ok. Allora, come questo, adesso, dopo questo video, andrò a registrare il video della vita di Alex Hunter di FIFA, di A7. Ok, noi vediamo che smettiamo che facciamo qua, adesso che cos'è? Il livello 20, va bene. Io ce l'ho, forse, ah, ok, ce l'ho altri due cervelli, e posso comprare questo? Forse, forse, ok, che sarebbe, ah, lo stream, ah, sono mai un aggiornato, perché lo stream sarebbe tipo, la live, se non sbaglio, ma poi se è tipo la live, ragazzi, non so. Inizialmente possiamo potenziale, lo potenzialmente, lo potenzialmente perché è, stop, perché adesso è partita dal tipo la pubblicità, quindi stop. Ok, e, senza per la presa. E ragà, ho messo le doppie impute nel visual, bellissimo, ok, andiamo a controllare se io posso modificare la parete, perché come potete vedere, guardate qua, andiamo sui miei amici, no, aspettate, la stanza, no, 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 RUCHE JET, questo qua, ok ragazzi, siamo ritorno a tutti, ho fatto un po' di pieno di cosette, infatti siamo inventati pure di visualizzazione, anche la testa di iscritti, ok, faccio un altro minuto, ah, 500 iscritti, quindi, vediamo quello, allora, tanto che faccio 100, faccio 5.000 iscritti, Scusate, scusate, un attimo, vediamo, no, non vediamo, non vediamo tutte le cose, no, vabbè, allora, madonna, perché non ho avuto le visualizzazioni ogni volta? E, ah, ah, ecco, ah, vero, me l'avevo scordato, perché, perché c'è, allora, c'è questo, essendo in tendenza, mi dà più visualizzazioni, E' più iscritti, penso, anche se non voglio, è più, anche più iscritti, infatti, iscritti, no, iscritti, sì, che iscritti non vuol dire un cazzo, mi dà più del belletto di visualizzazioni, perché parlo veloce, perché parlo veloce, perché parlo veloce, però, è 50% in più di iscritti, ottenuti relativamente, e i video animali, o scienza, o musical, e, perché, però, capisco, che tutto è scritto in italiano, generazione, 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 che è tutto è scritto bene in italiano, poi, é arrivato ai iscritti, se sono confusso, io non ho letto in inglese, subscribe, vabbè, vabbè, Ehm, ok, madonna, 500, eppure 500 pasta iscritti, grande, altri video, altri video, altri video, sempre animali, dai, animali, eh, ma questo non ho visto che cos'è, vabbè. Ehm, ragazzi, eh, possiamo dare un video di Mattia che viene inizione per andarsi, per andarvi a unire alla sua rete, che onestamente deve sboccare il livello 10 per arrivarci, quindi Mattia, perdonami, per essere un po' sentare, deve arrivare al livello 10, e poi siccome ha un po' che non gioco questo gioco, sono ancora arrivato a 2, quindi, aspetta, pass, ecco, ok, faccio, faccio altri video. Ehm, non vorrei di sbloccare altri, eh, gli altri due slot, per fare molti, ma molti tesi video, li devo sbloccare da qua, però venga, non so, allora, non so, Mattia, tu lo sai dove sono per sbloccare altri, altre slot per i video, dimmelo nei commenti, perché io non ho visto, ah, tra l'altro quando l'avevo ancora sbloccare, non avevo ancora avuto, vado, non lo trovo, non lo trovo, non lo trovo, non lo trovo, mi sembra profondo, vabbè. Ehm, vabbè, eh, l'amato, vabbè, questi sono i soliti che guadagnano più di pari, sto lasciando tutto, ehm, ok, facciamo questo, un altro video, e vediamo cosa posso comprare, io, oh, ma sta qui, ogni 30 secondi della tua vita è qua. Minchia, si vede che com'è, perché guarda, regà, ogni volta, spedizione acqua, sponso, che sarebbero gli sponso, grazie fratella, sorella, grande, ma cambia per la rega, ah, no, questo è deciso, lo è deciso, lo è deciso, lo è deciso, lo è, ehm, facciamo un altro video, se ti sblocchi, ehm, Noi, ragazzi, ve lo faccio vedere, a fine caricamento, vabbè, no, dai, vabbè, ok, 29 iscritti, ehm, 360 no scope, oh yeah, però io voglio fare questo, perché vi date visitazioni, e ci vediamo a caricamento del video, concluso, bella, ok, ragazzi, abbiamo finito, ecco, uno, No, abbiamo 302 visitazioni, e 31 iscritti, e ragazzi, abbiamo appena, ho appena riscattato, questo, il primo di tutti, che da, mh, bordello di roba, e abbiamo appena avuto 75 iscritti, vedete vedere là, e, non mi ricordo quante mie visitazioni, e due cervelli, per potenciarci qua, però, due cervelli, non dobbiamo fare niente, quindi, quindi, per questo video, per questo video, è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, Iscriviti al canale, diventiamo i foci, iscriviti, e, e, eh, e i triple, i canali, che trovi in iscrizione, e niente, bella, rega!